ed eccoci alla intervista finale chiudiamo questo circuito ideale che cerchiamo di creare questa sera attraverso l'amabile arte di Jus Gustando che questa sera ha dato veramente un'impronta notevole contro la violenza alle donne allora con un grande esperto come lei io vorrei fare un pochino quella che è la fotografia del paese italia i tipi di delitti soprattutto e il tipo di violenze perché sono due cose diverse non sempre una violenza culmina poi in un delitto fortunatamente le ultime note che sono state diffuse dal ministro dell'interno Alfano parlano di una diminuzione con riguardo agli omicidi in danno delle donne i dati invece che abbiamo registrato fino all'anno scorso con il rapporto EURES sull'omicidio in Italia rapporto che viene curato dall'EURES che è un istituto che si occupa dello studio di tutti i fenomeni criminosi in particolare dello studio dei fenomeni omicidiari è un rapporto che viene curato in collaborazione con l'agenzia ANSA che è la maggiore agenzia giornalistica italiana e con la polizia di stato i dati vengono sottoposti ad un vaglio anche da parte del centro per l'analisi criminale del ministero dell'interno e alla fine vengono validati e confrontati con quelli a disposizione del ministero degli interni fino all'anno scorso si registrava questo una diminuzione in genere dell'omicidio in termini assoluti in termini assoluti purtroppo un aumento degli omicidi in danno delle donne quest'anno fortunatamente pare che ci sia una diminuzione una diminuzione abbastanza significativa rispetto a quello che è stato il trend dell'anno passato questo comunque indicativo del fatto che forse il l'attenzione abbastanza forte su questa problematica ha incominciato a produrre qualche effetto la criminologia non ha solamente come punto di osservazione di riferimento quello che è l'autore dei delitti ma anche la vittima e nello stesso tempo quella che è la reazione sociale al delitto forse stiamo incominciando a renderci conto se ne è reso conto sicuramente il legislatore con delle innovazioni legislative che hanno portato alla introduzione all'interno del nostro ordinamento di fatti specie criminose che prima non c'erano tra l'altro quella più che ha segnato maggiormente il passaggio da una normativa ancora abbastanza difficile da applicare ad una normativa che invece ha avuto una grande applicazione mi riferisco alla normativa sulle molestie assillanti quindi sullo stalking che ha determinato la possibilità di poter perseguire dei comportamenti che alcune volte non sempre erano da preludio poi purtroppo a delitti molto più cruenti in danno delle donne il problema rimane uno problema di natura culturale un problema che deve essere davvero affrontato con delle politiche oltre che legislative con delle politiche culturali fino a quando l'uomo continuerà a pensare che la donna è un prolungamento di se stesso e non è altro da sé si continuerà purtroppo a registrare questi fenomeni che sono davvero assolutamente inconcepibili in un contesto qual è quello sociale attuale contesto sociale che purtroppo viene segnato da una violenza che acquista sempre di più delle valenze strane problematiche secondo me la maggior parte di questi crimini dei crimini in generale è determinata dal fatto che c'è una situazione generale davvero di assoluta assoluto abbandono di quelli che erano i valori tradizionali la gente si vede sempre di meno ha sempre meno occasioni di riflessione di frequentazione personale per esempio una cosa che è aumentata moltissimo è la violenza di genere ma violenza per esempio anche nelle relazioni interpersonali pensiamo anche a fenomeni quali quelli che riguardano i minori un tempo non si sentiva parlare mai di bullismo eppure le prevaricazioni anche all'interno delle comunità scolastiche con minori di età relativa a quella da scuola elementare erano fenomeni che sono sempre stati venivano risolti però in modo meno cruento di quello attuale perché perché c'era l'abitudine a vedersi a frequentarsi c'era una frequentazione personale oggi invece tutto viene immediato attraverso questo mondo della comunicazione informatizzata questo mondo del virtuale questo mondo che fa sì che il soggetto non abbia la possibilità di poter interagire anche con le proprie pulsioni pulsioni che ci sono ci sono state ci saranno sempre pulsioni che chiaramente bisognerebbe tenere a freno le si tiene a freno se si ha la possibilità di frequentare altre persone di potersi misurare quando tutto questo non avviene sia in contesti virtuali nel momento in cui succede qualche cosa che fa attivare il cortocircuito questo cortocircuito purtroppo scatena poi delle dinamiche veramente distruttive tra l'altro il virtuale entra anche nelle case quindi spesso accade che tra uomini e donne tra genitori e figli non si parli quindi quello che diceva lei è molto vero e questo isolamento alimenta evidentemente sentimenti negativi assolutamente sì non ci sono più gli spazi che c'erano una volta per esempio uno spazio era quello del momento in cui la famiglia si riuniva intorno ad un tavolo per cenare per pranzare oggi invece questi spazi sono sempre più risicati i genitori sono presi da altri impegni e i figli non vogliono stare con i genitori allora o si recuperano queste tradizioni sane tradizioni perché sono delle tradizioni che avvicinano si guarda anche un po' al ruolo genitoriale che non deve certamente essere il ruolo amicale il genitore non deve mai perdere quella sua caratteristica questo lo dico perché si ricollega poi all'aumento del trend omicidiario nei confronti delle donne perché è chiaro che gli uomini di oggi sono i ragazzi di qualche anno fa e questi ragazzi di qualche anno fa hanno avuto un'educazione che probabilmente non li ha portati a considerare che bisogna assumere determinati comportamenti nei confronti delle donne comportamenti che devono essere addirittura maggiormente improntati al rispetto rispetto a quelli che sono i comportamenti che si possono attivare nei confronti di una persona dello stesso sesso tra uomini si può anche arrivare ad alzare la voce tra uomini si può anche arrivare a regolare un po' in modo belluino chiaramente non non intendo riferirmi al fatto che si possa passare alle vie di fatto ma con una donna mai e quindi il fatto che invece esistano delle situazioni di violenza gratuita delle situazioni di violenza anche verbale lo si diceva anche prima ho sentito delle altre interviste al riguardo anche la violenza silenziosa anche la violenza di chi non considera ecco sono tutta una serie di atteggiamenti che sono contrari a quello che invece dovrebbe essere il ruolo che bisogna assumere nei confronti della donna che è un ruolo che invece dovrebbe essere di assoluta attenzione di assoluto davvero rispetto non bisognerebbe mai perdere di vista il fatto che la donna è madre e noi prima di tutto qualunque uomo dovrebbe tenere presente questo fatto che se sta al mondo è perché c'è stata una donna che lo ha messo al mondo e quindi dovrebbe riconoscere in tutte le donne che incontra anche quel valore che riconosce nella madre provate a dire ad un uomo bisogno di fare qualche cosa di contrario nei confronti della madre salvo i casi di matricidio che fortunatamente sono casi veramente risicati io la sposto un po' sulle tematiche sociologiche perché ridurla soltanto a questioni che hanno a che fare col diritto non porterebbe ad alcun risultato anzi più tutto quello che ha fatto il legislatore più di quello che ha fatto il legislatore non può fare ormai con tutti gli strumenti che sono a disposizione altro non si può fare bisogna solamente fare questa iniezione culturale che deve partire davvero dalle scuole elementari deve partire dalle in tutti i contesti una vera e propria sorta di alfabetizzazione proprio ma dei sentimenti e dell'umano grazie noi a questa sera crediamo di avervi dato perlomeno una visibilità non dico a 360 gradi sarebbe impossibile però una buona fetta del nostro circuito credo l'abbiamo completata intanto da officine del farneto da roma ius gustando cucinare in rosso per amore solo per amore è tutto